Il presidente della provincia Giuseppe Canfora ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Martarella, il sindaco di Sarno, fa parte della delegazione dell'Unione delle Provincie d'Italia, guidata dal presidente Achille Variati, sindaco di Vicenza e composta da 15 presidenti, sindaci, rappresentanza degli enti di area vassa delle regioni a statuto ordinario, che è stata ricevuta questa mattina al Quirinale. Alla base dell'incontro, lo stato di attuazione della riforma dei nuovi enti di area vasta. Essere invitati ed essere al cospetto del presidente della Repubblica Sergio Martarella, indubbiamente mi emoziona tantissimo, soprattutto dopo quel bel discorso che Martarella non soltanto ha fatto per il nuovo anno, ma soprattutto per il discorso che tenne in difesa delle province. Per cui quelle parole autorevoli, quella sensibilità, quella passione per i piccoli comuni che veniva fuori da quel suo intervento, è emozionante ed è anche commovente perché noi abbiamo una provincia, parlo della provincia di Salerno, con 158 comuni, di cui più del 50% hanno tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, anzi saranno il 60%, per cui sono poche le città a una concentrazione abitativa elevata, tranne al di là del Capoluogo, Battipaglia, Scafati, Eboli, Nocera, la Valle del Sarno, l'agro sarnese Nocerino, ma poi effettivamente il 60% sono piccoli comuni.